sabato 13 domenica 14 maggio festa della mamma saremo tutti nelle piazze della romagna volontari or e anche i ricercatori del centro di osteoncologia e tumori rari per venderne a zalei per sostenere la ricerca. Sono la dottoressa Angela Ragazzini, lavoro all'IRST di Mendola, mi occupo di sperimentazioni cliniche, sono collaboratore di ricerca e sarò anch'io sabato insieme ai volontari dell'OIOR a distribuire le opere. Ciao sono Federica Matteucci, sono il responsabile della medicina nucleare diagnostica dell'IRST di Mendola e sarò anch'io questo fine settimana in piazza con i volontari dell'OIOR a distribuire le azzalee per la festa della mamma. Salve sono la dottoressa Oriana Manni, sono il direttore dell'unità di biostatistica e sperimentazioni cliniche dell'IRST e anch'io sabato sarò al banchetto dell'OIOR con i volontari dell'OIOR per regalare una zalea per la festa della mamma. Sono Paola Caroli, una dottoressa della medicina nucleare dell'IRST e anch'io sarò presente sabato mattina insieme ai volontari IOR presso la piazza della mia città per sostenere la ricerca. Ciao, sono la dottoressa Sara Testoni, una biologa e ricercatrice dell'unità di biostatistica verso l'IRST e anch'io sabato sarò con i volontari dell'OIOR a distribuire le azzalee per la festa della mamma. Per la festa della mamma regalate un fiore, regalate una speranza. Sostenete la ricerca con la zalea dell'OIOR e vi aspetto tutti, vi aspettiamo tutti nelle piazze della nostra Romagna il 13 e 14 maggio.